Future Channel, salone del libro con camera di commercio, rete 7, qui a raccontare le storie che dal salone passano e che sono davvero tante, con uno sguardo magari un po' diverso rispetto a quello delle grandi sale, abbiamo gli ospiti delle grandi sale, abbiamo le storie che vengono raccontate nei laboratori dei ragazzi, abbiamo le storie delle persone che ci incontrano e hanno qualcosa di bello e di importante da raccontarci. Sono qui con noi Karine Chantal Bruno, Karine buona giornata e benvenuta. Buona giornata a tutti. E Daniela Pellegrino, buona giornata anche a te insieme con Maria Eugenia Miceli. Buongiorno a tutte quante. Prima di svelare come in ogni buon giallo l'assassino prenderei a raccontare la storia però perché questa presenza sul palco è frutto di un incrocio di sguardi. Un incrocio di sguardi avvenuto qualche tempo fa in un luogo particolare. Allora io partirei da lì, da quell'incrocio di sguardi, poi il resto della storia abbiamo tempo per raccontarlo. Allora io intanto prima di tutto direi che ognuno di noi, per noi, le storie che ha da raccontare e i libri che ha letto perché il motivo per cui siamo qua è importantissimo. La nostra è una delle tantissime storie che ci possono essere. È una nostra malattia. È la malattia, una malattia oncologica che abbiamo avuto ma che ha fatto sì che in un momento dove eravamo concentrate ognuno sulla nostra sofferenza, i nostri sguardi si sono alzati una verso l'altra, i nostri occhi si sono incontrati e ci siamo strette la mano. Questa è la base di che cosa è avvenuto. Quindi un incontro che avviene in una sala, quella di un reparto, di un ospedale di oncologia, in un momento della vita in cui siamo portati naturalmente a guardare un po' meno agli altri perché la sofferenza e la malattia ha un effetto collaterale che non è solo il dolore che porta con sé ma anche l'accartocciarsi un po' dell'esistenza come un fogliettino di carta su se stesso. È questo che è capitato. Noi eravamo esattamente accartocciate, eravamo spaventate, smarrite in quella sala d'aspetto e ci siamo guardate, ci siamo guardate e incontro dopo incontro nei nostri mercoledì, perché noi avevamo la terapia il mercoledì, ci siamo veramente incontrate e connesse che è più di incontrarsi, no? Le nostre anime si sono connesse ed è nato questo gruppo. Noi siamo solo una piccola parte del gruppo in rappresentanza, ma... Poi lo svegliamo, è il nome del gruppo, cioè manteniamo ancora un po' di suspense come nei migliori gialli, altrimenti... Faccio un piccolo dettaglio su quello che dici, che la sala di attesa di una cura oncologica è una sala particolare, no? Perché la cura oncologica non ha solo degli effetti collaterali, toglie anche un qualche cosa di più, perché lascia degli strascici, lascia una pesantezza della vita, una pesantezza proprio fisica, contribuisce a togliere anche un pezzo di speranza dove invece sta provando a curarti e a dartela, no? E quindi ha doppiamente valore questo incontro. Certo, allora, l'incontro è stato un incontro magico, come hanno detto le mie carissime amiche. La cosa fondamentale è stata non sentirsi mai da sole ad affrontare l'oscurità, perché è vedere sempre una luce che viene dallo sguardo, dal sorriso di chi è accanto a te e chi ha passato magari cinque minuti prima quello che adesso stavi per affrontare tu. Quindi chi entra e esce dalla sala delle infusioni in attesa di essere chiamato ha un'attesa che a volte è di ore, che sono secoli. Quindi potersi scambiare un sorriso, una parola di conforto, un incoraggiamento che è la cosa che ha portato avanti tante di noi, che alcune avevano anche paura di affrontare o ad un certo punto avevano anche desiderio di mollare, perché è dura, perché non sempre si arriva a poter fare la terapia per quello che succede nel frattempo, il nostro corpo può non rispondere come noi ci aspetteremmo, come i medici si attendono. E quindi sentirsi dire da chi ti è vicina, non devi mollare, ce la puoi fare, fallo, entra, vedrai che sarà meglio. E lo fa nella tua stessa condizione, non lo fa da una posizione differente. Non lo fai da una posizione ugualitaria, quindi nessuno ti sta dando un consiglio su qualcosa che non ha sperimentato sulla propria carne cinque minuti prima o continua a fare. Da quell'incontro l'amicizia di quelle vere e profonde prosegue e diventa un qualche cosa di ancora più concreto, un'associazione, un movimento. Barcollo ma non mollo, adesso abbiamo svelato, siamo arrivati alle pagine conclusive del giallo per aprirne uno nuovo di libro. Barcollo ma non mollo, quando è che avete preso la decisione di trasformare quello che è stato un aiuto individuale in una missione un po' più grande? Allora, intanto, prima di tutto, la cosa importante è risultata a tutti, che questa è una delle malattie della vita, perché non è la malattia. Le malattie possono essere del cuore, di un lutto, di separazioni, di abbandoni. Noi abbiamo subito capito che questa è una delle malattie, quindi il nostro obiettivo è cercare di essere concentrati non su se stessi ma sugli altri e aiutare, non aiutare, scartocciarsi. Esattamente, così come siamo state supportate, cioè di dare questo, posare lo sguardo sugli altri, perché è l'unico modo per formare anche le coscienze nuove, i giovani, a dire succederà, perché nella vita succede di affrontare ognuno la propria malattia, ma di dire forza, ce la puoi fare, togliti, cerca di tirare sulla testa, stai dritto con la stiena, noi diciamo anche lo sguardo verso il cielo, perché... Quindi quella che è stata accanto alla medicina farmacologica, una medicina ugualmente oncologica, quella del vostro supporto amicale, doveva essere, tra virgolette, protocollata e resa disponibile a tutti. Sì, esatto. La grande magia di questo incontro, del nostro incontro, è stato proprio il cambiamento dell'approccio verso la malattia. Per noi era una malattia, è una malattia oncologica, per altri può essere una malattia dell'anima, qualunque altro disagio. e noi abbiamo visto che mentre, quando arrivavamo da sole, prima di incontrarci in quella sala d'aspetto, eravamo spaventate. Quando ci facevano la chemioterapia eravamo terrorizzate a vedere quelle flebo bianche e rosse, oddio, cosa mi iniettano, è veleno. Andando avanti, nei nostri mercoledì, man mano che nasceva questo gruppo, quel giorno è diventato il giorno in cui ci incontravamo, scherzavamo, stavamo veramente insieme. Nel piccolo principe c'è scritto nell'incontro con la volpe che ci vogliono i riti, la ritualità, la gestualità. Ci vogliono i riti che trasformano i momenti in qualche cosa che ha un senso. E' il momento dell'infusione è diventato il momento in cui ci stavano salvando la vita, perché quello è, in ospedale ci stavano salvando la vita e quindi la paura non va mai via completamente, neanche dopo. Però è stata superata dalla nostra amicizia e dal nostro stare insieme, stare insieme tenendosi per mano ed essendoci nei momenti del bisogno. Io ricordo di un'ecografia particolarmente che mi intimoriva, ero spaventata, non avevo detto a nessuno della mia paura, ma mi sono ritrovata un'amica vicina che non mi ha lasciato, è stata con me nella sala d'aspetto e mi ha detto no, io non esco finché non torni e mi dici che tutto a posto. E allora è questa la magia dello stare insieme e del trovare così la forza per affrontare qualunque cosa. Da lì è partita un'altra missione, quella di Barcollo ma non mollo. A questo punto praticamente, come avete trasformato quell'intuizione in quella che poi la vostra attività pratica oggi? Barcollo ma non mollo è nata da un'iniziativa che man mano è cresciuta, era un piccolo gruppo Whatsapp, adesso è diventata una chat di sostegno e di confronto di circa 70, 80, 90 di noi, i malate oncologiche che sono in terapia o che hanno finito, ma a un certo punto alcune di noi, un po' per esigenza personale di voler fare qualcosa di più, un po' per sfida perché comunque è un progetto ambizioso, siamo passate in un'altra piccola chat che abbiamo chiamato dall'idea al progetto. Questo progetto in un anno ormai è andato prendendo piede e quindi adesso ci stiamo... Sì, in realtà ci siamo esercitate, ci hanno chiamato al circolo dei lettori dove abbiamo raccontato di noi, abbiamo partecipato da due anni alla camminata Jazz the Women I am che è per la ricerca e la prevenzione e lì siamo per il secondo anno arrivati, il secondo gruppo raccogliendo più di 750 persone che trasciniamo e coinvolgiamo, ci sono anche qua delle persone che ci hanno accompagnato e stiamo facendo degli incontri con psicologi, fisiatri, poi nutrizionisti dove partecipano tantissime persone e la cosa importante è che ognuno di noi è diverso, ognuno di noi reagisce alla malattia, al chemio, al dolore in modo diverso ma ha bisogno di alzare la mano e fare la propria domanda perché ognuno di noi reagisce alla vita in modo diverso quindi stiamo creando tutto un gruppo di accoglienza che per noi è importante Rispetto alle cure oncologiche, la prima precauzione, che di solito viene... di solito la domanda base è adesso vado a tagliarmi i capelli, trovo una parrucca Non è uno scherzo, non è una battuta questa, ma voi lo sapete meglio di me Però c'è un altro correlato delle cure oncologiche che è la depressione che spesso accompagna e che a volte è un prezzo molto più grande, come affrontarlo? Allora, intanto questa forma di malattia, come tante altre, coinvolge il corpo, il fisico, l'anima, l'ambito familiare, l'ambito lavorativo è un vero e proprio tsunami che ti arriva addosso e tu devi imparare a riconoscerti perché non ti riconosci guardandoti allo specchio e ti sfiora l'anima e qualcuno l'attraversa completamente quindi è per quello noi abbiamo bisogno e vogliamo creare gruppi di supporto dove la mia... di gruppo anche molto perché sentire la mia esperienza, confrontarsi con la sua, prima di tutto relativizza il dolore e quindi fa sempre sì che venga fuori la gratitudine perché la prima cosa importante, quando sei accanto a delle persone e senti delle storie non puoi che alzare gli occhi al cielo e ringraziare sempre Non so se volete contribuire, ovviamente la domanda era ampia, quella sulla depressione è credo che sia uno dei grandi temi Sì, ma infatti il nostro primo obiettivo, quando abbiamo presentato il nostro progetto all'ospedale era proprio l'accoglienza perché per noi non siamo... oddio, nel nostro gruppo c'è anche una psicologa abbiamo professionalità molto diverse fra di noi ma il nostro primo obiettivo era proprio quello di creare il gruppo in cui ognuno si sentisse riconosciuto e vedesse il proprio dolore, il proprio disagio riconosciuto dagli altri e quindi una persona che ti prende per mano, ti riconosce e ti sta vicino ti aiuta con... poi ovviamente se la depressione avanza è giusto che sia un professionista prendersi cura della persona però noi nel nostro piccolo ci siamo date questo come obiettivo quello di accogliere le persone e di stringerle in un abbraccio Noi abbiamo potuto verificare che se uno dal primo giorno affronta la malattia con qualcuno che ti prende per mano, ma ti cambia l'esperienza cioè te la fa proprio cambiare poi è come un'onda, no? Come raccontava prima dove ognuno guarda chi è passato e allora ti prende mano e fai vedere io mi ricordo sempre un giorno che sono arrivata con mio padre che non riuscivo neanche a camminare e ad un certo punto ho visto una di loro che era soltanto un mese e mezzo prima di me aveva fatto il mio percorso mi guarda e mi dice ero lì come te io ero lì come te un mese e mezzo fa ce la puoi fare e darti la forza e la fiducia è importante Adesso vi faccio una domanda scomoda e chiedo perdono preventivamente a mia madre mia mamma è da 19 anni che fa la chemio ma hai già detto che quelli del 19esimo anno non ci sono più neanche quelli del 18esimo neanche quelli del 17esimo quando succede così perché poi fa parte avete scoperto qualche cosa non lo so mi rendo conto che è una domanda talmente difficile da cui rispondere però credo che anche questo vada messo dentro il lavoro di supporto che viene fatto perché è una malattia che tocca il paziente ma tocca poi anche tutto il nucleo familiare Sì, indubbiamente il nucleo familiare se non riesce ad esserti di supporto è perché ha bisogno di un supporto quindi in qualche modo bisogna veramente cercare di rendere partecipi alla malattia ma senza gravare su chi gli sta accanto perché molto spesso c'è il senso di colpa ha un senso di colpa esatto stavo dicendo questo il fatto di stare bene e di non avere quello è comunque il terrore di perdere la persona amata la mamma noi siamo mamme quindi è stato anche un lavoro non semplice farlo capire accettare ai figli chi più grande chi più piccolo i mariti hanno avuto anche ovviamente il loro momento perché non ci riconoscono più neanche il nostro fisico cambia cambia tutto non siamo più quelle che eravamo l'estate prima sorridenti al mare magari ecco stiamo passando l'inverno della nostra vita però noi sappiamo che la ricerca alla quale cerchiamo di contribuire il nostro piccolo sta andando molto avanti quindi se c'è chi può fare la chemio per 19 anni è perché va avanti la ricerca quindi è sempre un guardare al futuro senza rendersi totalmente annichiliti dalla malattia però è chiaro che non si può pensare di evitare un percorso di sofferenza perché chi pensa di fare tutto ciò passandone in denne forse non ha capito il core della malattia che è quello invece di uscirne in maniera diversa migliore in qualche modo mi hai proprio rubato la parola di bocca mi sembra questa chiacchierata così che ne siete uscite arricchite assolutamente sì assolutamente sì e non è un'idea solo nostra di noi che siamo qua ma anche tante persone della chat di cui parlava Maria Eugenia quella più grande con 90 persone tante persone quando ci vediamo tante amiche quando ci vediamo alle cene dicono chiaramente il tumore sì mi ha portato via tante cose ma ne sono uscita più ricca più ricca perché ho incontrato delle persone e un gruppo come questo in cui mi sono riconosciuta perché ho cambiato sguardo sulla vita perché poi di fronte a una situazione come quella che illustrava prima e che in piccolo cioè è un po' la mia uno può farsi travolgere dalla paura oppure dire sono fortunato perché sono ancora vivo sono ancora qua io sono arrivata all'ospedale di Candiolo dopo anche le giornate hanno un sapore diverso quotidiano assolutamente sì poi si esce migliori migliori di prima ognuno fa del proprio meglio come se all'improvviso dopo che uno non si aspetta più niente dalla vita in certi momenti all'improvviso dici ma c'è un regalo lì ma è per me ma che meraviglia poi giri l'angolo e dici caspita ma un altro dono ma che bello quindi come dice Daniela hai gli occhi che all'improvviso riconoscono e riconoscono i doni meravigliosi grazie di questo momento insieme per chi vuole desidera contattarvi e venire in contatto con voi come lo può fare dove si trovano i vostri riferimenti i nostri riferimenti noi ad oggi siamo nate a Carniolo ma operiamo anche iniziamo a operare in altri ospedali e abbiamo i nostri contatti i nostri contatti privati Barcollo dove li troviamo? all'instagram Barcollo ma non mollo team Barcollo ma non mollo team grazie perché dobbiamo esagerare ci completiamo grazie ancora e passo la linea alla regia grazie